Benvenuti, ben ritrovati, buon fine settimana. Quest'oggi Respubblica, Sicilia chiama Europa, scusate se ho il disco già con un colpo di tosse, dà certamente voce a una buona parte della Sicilia, cioè la Western Sicilia, la Sicilia occidentale, perché noi parliamo di università e come ama sottolineare il magnifico rettore dell'Università di Palermo, il dottore Fabrizio Micari, in realtà l'Università di Palermo, benissimo, potremmo definirla sempre più, si presta ad essere definita in questa maniera, l'Università della Sicilia occidentale. Immagino che abbiate già capito che ho in studio proprio lui, il magnifico rettore dell'Università di Palermo, il dottore Fabrizio Micari, che si accompagna con il presidente del polo universitario trapanese, il dottore Antonio Piacentino. Grazie intanto per essere qui nei nostri studi ad entrambi. Vi rubiamo mezz'oretta, ma sono certo che insomma riusciremo a far capire l'importanza di questa nuova stagione per l'Università della Sicilia occidentale. Dottore Micari, mi piace questo termine. Beh, è una realtà diciamo che si va consolidando sempre di più, nel senso che ogni anno noi andiamo rafforzando la nostra presenza sulle cosiddette sedi decentrate, cioè sulla nostra presenza su Trapani, su Agrigento e su Caltanissetta, portando dei corsi di laurea nuovi. Consideri che ormai nel 21-22, nell'anno accademico prossimo 21, dei 160 corsi di laurea totali che noi abbiamo tra triennali, magistrali e magistrali di ciclo unico, 16 sono sulle cosiddette sedi decentrate. Quindi è una presenza sul territorio che diventa sempre più diffusa. Ogni anno portiamo qualcosa in più, quest'anno su Trapani c'è una importante novità, due importanti novità e questo per questo insomma mi fa piacere parlarne, proprio per presentarle anche ai ragazzi e alle loro famiglie. Beh, in realtà noi stiamo registrando di giovedì mattina, poco prima dell'evento ufficiale proprio al Polo Universitario di Trapani, attraverso il quale vengono presentate, cioè viene presentata certamente la nuova annualità, ma immagine in particolare appunto questi due nuovi corsi di laurea, quello in scienze infermieristiche e l'altro in ingegneria. Dottor Piacentino, beh, si arricchisce appunto l'offerta formativa del Polo Universitario di Trapani? Assolutamente, peraltro si arricchisce non solo numericamente ma con corsi che rispondono a esigenze comprovate, diciamo, del territorio perché la progettazione dell'offerta formativa è stata preceduta da una riflessione sulle richieste di formazione del territorio, abbiamo esplorato con attenzione cosa i giovani del nostro territorio auspicano come opportunità formative per l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro e quindi l'ambito sanitario e l'ambito tecnologico dell'ingegneria erano probabilmente due ambiti che non trovavano una risposta ai ragazzi interessati come in qualche modo veniva comprovato dalla frequente necessità di andare a studiare anche fuori, ma in qualche modo abbiamo provato a rispondere da queste esigenze e il corso in ingegneria è un corso di respiro ben più ampio di quanto alla sua denominazione non possa dire perché è un corso in ingegneria delle tecnologie per il mare ma che ha una vocazione trasversale come competenze acquisite molto ampia e quindi consente all'allievo di spendere anche in ogni comparto industriale le proprie competenze, oltre alla possibilità di un accesso praticamente diretto alle più ambite lauree magistrali e all'ambito industriale quali ingegneria meccanica, ingegneria gestionale. Ecco abbiamo concepito la progettazione di questi corsi con grande attenzione alle possibilità ulteriori di perfezionamento in modo da garantire la possibilità di acquisire quei titoli che più di tutti sono richiesti dai ragazzi, si tratta dei corsi quasi ovunque a numero chiuso che in questo modo invece vedono per lo studente che vuole studiare a Trapani la possibilità di qualificarsi e poi proseguire senza dubbio in questi ambiti. Una università che si allarga ed allarga anche le sinergie con altri enti, con altre istituzioni. Per quanto riguarda la scienza infermieristica abbiamo visto appunto la firma proprio con quell'ufficiale con l'ASP di Trapani. Dottore Migari. È chiaro che l'università in quanto attore del territorio ha un ruolo fondamentale nella crescita del territorio stesso, crescita che è crescita economica, che è crescita sociale e deve giocare proprio da player nel confronto con le altre istituzioni. Nel caso di infermieristica, infermieristica era una richiesta che da Trapani veniva decisamente da tanti anni, ma non avrebbe senso fare infermieristica senza una struttura ospedaliera con cui collaborare, nel caso specifico appunto l'ASP di Trapani. In particolare come si snoda la collaborazione con l'ASP? Tutta la parte poi dei tirocini naturalmente viene svolta direttamente sul campo, quindi in ospedale. Cioè questi sono dei campi appunto delle professioni sanitarie che evidentemente prevedono una parte teorica ma moltissima parte di tirocinio e questo avviene all'ospedale appunto di Trapani, al Sant'Antonio Obata in collaborazione con l'ASP. Noi prevediamo, tra l'altro è anche un numero interessante diciamo di ragazzi perché il corso è per un'ottantina diciamo di ragazzi, considerate che c'era storicamente scienze infermieristiche a Trapani ma era 15, 20, 25 posti, adesso l'abbiamo portato ad 80 posti, peraltro devo anche dire c'è una richiesta fortissima, lo sapete insomma, di infermieri, quindi io sono convinto che questo sarà un corso che avrà successo. Quello che ci è piaciuto quest'anno con la collaborazione naturalmente del professore Piacentino è stato provare a dare un'offerta formativa che certamente non può essere a 360 gradi, questo è inevitabile, però veramente agisce su più fronti, quindi manteniamo il tradizionale fronte giuridico che era quello del storico, un po' su Trapani, di giurisprudenza come corso a 5 anni e di consulente giuridico di impresa come corso a 3 anni. Puntiamo, continuiamo a puntare, non sono stati anni di grande successo in questo senso, però noi continuiamo a crederci su scienze del turismo, devo dire i numeri su scienze del turismo non sono stati quelli che ci aspettavamo, forse perché il periodo non è stato dei migliori dal punto di vista del turismo per tante ragioni, tra cui la pandemia. naturalmente manteniamo enologia, viticoltura e enologia su Marsala, quindi questo già c'era, lo manteniamo e quindi l'aspetto giuridico, l'aspetto del territorio e del turismo, dell'economia del turismo, lo manteniamo, allarghiamo a questi altri due ambiti che sono l'ambito sanitario e l'ambito ingegneristico. È molto interessante quell'osservazione, parliamo di una ingegneria industriale, quindi il ragazzo e per fortuna devo dire i ragazzi che vogliono studiare ingegneria industriale sono veramente tanti in tutto il territorio siciliano. Può farsi le basi, le ossa, questi tre anni con questo corso di ingegneria industriale e poi può puntare praticamente a tutte le magistrali di ambito industriale e questo credo che possa essere una bella opportunità. È chiaro che poi il lavoro che si farà nelle prossime settimane sarà un lavoro di orientamento, andremo nelle scuole, presenteremo questi corsi, però credo che veramente questo possa essere un punto di svolta per la nostra presenza qui su Trapani e puntare a 250-300 matricole su questi corsi credo che possa essere assolutamente alla portata. Mi incuriosisce, un po' mi dispiace, sentire che Scienze del Turismo non sia attecchita come io personalmente mi aspettavo obiettivamente. Al di là dell'emergenza pandemica, per esempio Piacentino, possiamo individuare qualche altra pecca, falla, non so, che ha portato poi a non comprendere bene l'importanza, almeno questa è il mio sentore, la mia valutazione, l'importanza di questo corso di laurea, specialmente per questa parte della Western Sicily? Allora, è un corso che ha vissuto ovviamente delle difficoltà magari anche in qualche modo connesse a un taglio in taluni momenti che è meritevole di qualche riflessione. Devo dire che da un po' di tempo abbiamo attivato con la coordinatrice del corso un percorso di riflessione proprio sulle molteplici chiavi di lettura e di promozione che questo territorio può valorizzare perché si sta rinnovando in quest'ultimo periodo il corso da tanti punti di vista anche come metodologie didattiche di insegnamento perché il insegnare, acquisire le competenze sull'economia e la scienza del turismo non è qualcosa che attiene esclusivamente agli strumenti di didattica frontale ma ha bisogno di molto supporto esperienziale, di rapporto con gli attori del turismo per cui ecco si sono avviate preliminari interlocuzioni con l'amministrazione per la creazione di percorsi congiunti in qualche modo, riflessioni volte a incorporare all'interno del percorso delle esperienze pratiche che vedano maturare al ragazzo durante il percorso dei studi delle competenze immediatamente spendibili e sul fronte, se pensiamo al patrimonio enorme sul fronte naturalistico, enogastronomico, culturale della provincia e acquisire gli strumenti per valorizzare su tutti questi fronti io ritengo possa nel futuro garantire basi per un rilancio del corso Condivido per quello che possono essere le mie valutazioni e credo che possa essere anche uno grande sbocco occupazionale per il futuro quello di avere appunto, lo dico così molto banalmente, il classico pezzo di carta che è importante e fondamentale quando parliamo appunto di un corso di laurea qualsiasi ma in particolare appunto in questo territorio riguarda quello di scienze del turismo Ancora una volta voglio ritornare a professore Micari sulle collaborazioni Diceva il professore Vicentino che chiediamo, dialoghiamo con le amministrazioni L'Università di Palermo a Trapani insomma da tempo sta anche aspettando non solo un maggiore mi sento di dire da giornalista apertura da parte delle amministrazioni Trapani e Ederice forse ci stiamo arrivando, si dialoga meglio più effettivamente? Guardi, è chiaro che la collaborazione con le istituzioni e con la politica locale è fondamentale devo dire che diciamo sul consorzio perché poi la parte diciamo gestionale è del consorzio universitario della provincia di Trapani noi portiamo naturalmente tutto l'aspetto legato alla formazione e devo dire il consorzio ha tre attori essenzialmente che sono la regione siciliana, i comuni della provincia e l'università e devo dire che diciamo l'interlocuzione con i comuni in primis con Trapani e Marsala sia col sindaco di Trapani che col sindaco di Marsala ma anche con altri comuni e peraltro c'è un'azione che mira proprio a coinvolgerli ancora di più attivamente devo dire questo in questi mesi, in quest'ultimo anno diciamo sicuramente c'è stata ed è stata molto forte sul consorzio la terza gamba è quella diciamo della regione siciliana che ancora non ha nominato il presidente del consorzio ci auguriamo diciamo che lo faccia al più presto perché è assolutamente fondamentale l'ultima notte che ci siamo visti abbiamo sollevato lo stesso problema si ricorda e continua ancora no ma infatti io diciamo rinnovo naturalmente questo invito che peraltro ho visto è stato fatto autorevolmente anche dal sindaco di Marsala dal sindaco di Trapani e credo anche dal sindaco di Marsala perché non c'è dubbio ecco vede da qualche anno a questa parte un'altra occasione in cui ci siamo incontrati ne abbiamo parlato da qualche anno a questa parte il sistema dei consorzi universitari nelle province siciliane funziona meglio nella misura in cui sostanzialmente è strutturato da un punto di vista giuridico e anche da un punto di vista del finanziamento si partì nel 2017 con il decreto dell'allora Assessore Baccei che poi è stato ripreso diciamo dal successivo governo regionale da quel momento in poi i consorzi hanno delle regole chiare sanno chi sono gli attori, sanno come deve essere strutturata la governance sanno qual è il finanziamento noi sappiamo attivando un nuovo corso di laurea che tipo di finanziamento potremo appunto avere che ci serve per coprire quantomeno le spese di trasferta diciamo per i nostri docenti è chiaro che una cosa di questo tipo funziona tanto meglio quanto più c'è una governance salda, autorevole, chiara e anche questo è definito diciamo nella norma regionale e a questo punto diciamo è importante che questo venga completato quindi l'auspicio è che la governance noi abbiamo già indicato il nostro consigliere di amministrazione lo stesso hanno fatto i comuni l'auspicio è che il presidente del consorzio venga nominato al più presto per dare solidità, stabilità e autorevolezza appunto al consorzio stesso noi abbiamo tutto l'interesse a portare corsi di laurea su Trapani torno a dire noi abbiamo un'offerta veramente ampia 160 corsi di laurea vediamo che da parte diciamo delle province Trapani per la verità è una provincia già un pelino più benestante rispetto a quanto non lo sia Agrigento e Caltanissetta però ci accorgiamo di come sia fondamentale essere presenti sui territori perché le famiglie che non hanno la possibilità di mandare i propri figli a studiare fuori anche a Palermo sono tante la Sicilia ha la caratteristica di essere la seconda regione in Europa dal basso in quanto al numero di laureati nella fascia 30-34 anni in Sicilia ci sono solo il 15,2% c'è solo una regione della Romania con una percentuale di laureati più bassa allora è importante fare crescere questa percentuale la crescita di un territorio passa attraverso io ne sono convinto passa attraverso la crescita del livello culturale la crescita della formazione altre regioni in Europa hanno il 50-60% di laureati tra 30-34 anni dobbiamo fare crescere questo per fare questo dobbiamo dare opportunità ai giovani e alle loro famiglie di mandare i loro ragazzi a studiare tante volte non c'è la possibilità di farli andare a studiare fuori tante volte non hanno questa possibilità economica è giusto e doveroso che le università siano presenti sui territori dando un'offerta formativa ancora più ampia di quella che c'è attualmente noi abbiamo fatto, aggiungo che è un ultimo aspetto abbiamo fatto una cosa molto importante in questi anni abbiamo portato la no tax area a 25 mila euro oggi i ragazzi le cui famiglie hanno un reddito inferiore a 25 mila euro di ISEE non pagano completamente su un IPA due ragazzi su tre non pagano tasse allora avere una tassazione così bassa praticamente zero fino a 25 mila e poi comunque piuttosto limitata portare i corsi sui territori favorisce il diritto allo studio questo è quello che noi vogliamo fare non solo mi sento di aggiungere sempre per quelle che sono le mie valutazioni in base a ciò che leggo che per fortuna si sta invertendo il trend cioè sempre più siciliani vogliono studiare in Sicilia iniziamo a fidarci in particolar modo dell'offerta formativa dell'università di Parermo e quindi questo dovrebbe far riflettere un po' tutte appunto le amministrazioni la politica dell'incentivare l'attecchimento dei corsi di laurea in loco questo è un ragionamento che soprattutto qui a Trapani è molto importante lei pensi che diciamo sulla provincia di Palermo l'università di Palermo prende sulla provincia di Palermo se andiamo a guardare i 18 anni, 19 anni cioè i diplomati, quelli che si iscrivono all'università sulla provincia di Palermo noi ne prendiamo il 92% cioè prendiamo praticamente tutti o quasi perché poi qualcuno va a studiare in altre università siciliane perché provincia è grande naturalmente e un 4-5% va fuori quindi sulla provincia di Palermo prendiamo veramente ormai quasi tutto le nostre matricole nel mio mandato sono passate da 7.700 a 10.800 quindi c'è una crescita delle matricole veramente molto importante questo su Trapani è un po' meno vero nel senso che sulla provincia di Trapani noi prendiamo il 47% dei ragazzi che si iscrivono all'università e se lei considera che le altre università siciliane dalla provincia di Trapani prendono molto poco e che d'altra parte molti degli studenti sto parlando di provincia quindi molti degli studenti che vengono sono per esempio di Alcamo o di Castellammare da Trapani città la presenza di ragazzi che vengono a studiare ad Unipà non è così grande allora da questo punto di vista portare corsi qui serve proprio a questo scopo serve anche fare capire agli altri che per carità ognuno è libero di andare a studiare dove vuole se se lo può permettere però che l'offerta formativa che noi siamo in grado di dare è un'offerta formativa di grandissima qualità devo dire noi notiamo io dico quando affronto questi discorsi molto della terra anche in famiglia con gli amici dico sempre ricordatevi che l'università di Palermo è l'università dove studiò Pirandello abbiamo detto tutto sono tra i tanti essendo pirandelliano e anche l'università dove hai insegnato Mattarella l'università dove si sono formati Falcone e Borsellino quindi non disdegniamo le cose di casa nostra perché siamo bravi da questo punto di vista no su Trapani città in particolare è bello professore vi sentiamo perché i trapanesi non guardano a questo polo universitario? allora devo dire che in questo il mio diciamo il mio essere trapanese aiuta a cogliere un po' diciamo le motivazioni più ancestrali di questi orientamenti io credo che noi soffriamo talvolta di una tendenza a pensare che ciò che è lontano è intrinsecamente migliore vi è una quasi percezione di status addizionale diciamo di qualificazione del titolo di studi se conseguito lontano da noi io devo dire che il rispetto nelle interlocuzioni che ho con i ragazzi e soprattutto a Trapani provo a far sentire un aspetto con particolare rilievo la mobilità studentesca non è qualcosa da osteggiare a tutti i costi ci sono delle particolari situazioni nelle quali può essere motivata dall'assenza di un particolare percorso di studi per cui ci si sente molto vocati che non è presente presso la sede eccetera il nostro problema è che c'è un'enorme mobilità studentesca non motivata ossia una grande quantità di ragazzi che vanno fuori andando a studiare in percorsi formativi in corsi che di fatto sono erogati dall'Università di Palermo presso sedi molto vicine a casa loro e quindi con condizioni di accessibilità enormemente superiori con qualità assolutamente paragonabile se non superiore come comprovato da dati oggettivi di occupazione a valle del conseguimento del titolo di studio ecco questo tipo di occupazione è veramente qualcosa che facciamo questo tipo di mobilità è qualcosa che facciamo in spregio all'investimento che l'Università fa e alle opportunità che offre al territorio e quindi voglio far capire come dobbiamo conoscere l'Università è un mondo difficile da comprendere per un diciottenne perché è ricca di dimensioni c'è la dimensione della didattica c'è quella della ricerca non si vede dalla prospettiva di un ragazzo che si approccia alla maturità come le realtà universitarie si pongano nel panorama generale dell'interlocuzione del mondo del lavoro il mio background ingegneristico mi porta a conoscere particolarmente bene alcune fatti specie di questo ambito culturale a Trapani sappiamo bene come i ragazzi tendono spesso ad andare fuori dicendo al Politecnico di Torino piuttosto che di Milano avendo le aziende in prossimità permettono di trovare immediatamente lavoro ebbene se noi andiamo a guardare i dati oggettivi ci dimostrano che i laureati magistrali delle classi ad esempio industriali dell'Università di Palermo hanno il medesimo tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo di studio ciò significa che è la competenza acquisita che viene accolta dal mercato del lavoro e dobbiamo valorizzare questo tipo di conoscenza e diffonderlo mi viene in mente così magari potrebbe anche derivare questo non spregio speriamo che non sia insomma uno spregio ma voglia di lasciare insomma la provincialità della città di Trapani per provare emozioni in grandi città e allora uno dice vabbè tra Palermo che è casa mia me ne vado un po' più in su mi divincolo dai genitori mi divincolo ci potrebbe essere anche questo aspetto no? questo è mica di rischio assolutamente dico io ho vissuto alcuni periodi estivi ad Erice e quindi ricordo perfettamente tanti coetanei che sostanzialmente appunto dicevano beh però Firenze però Bologna cioè questo tentativo diciamo di scavalcare di uscire dalla Sicilia ritengo anche con diciamo altri due fattori una situazione economica che probabilmente a Trapani non è così male come magari in altre parti diciamo della provincia o della Sicilia e dall'altro lato anche ovviamente la presenza diciamo dei collegamenti da Birgi insomma che sono pure altrettanto importanti però questo diciamo tornando a quello che si diceva poc'anzi dal nostro punto di vista è proprio uno stimolo in più anche a portare corsi qui cioè portare il corso di ingegneria qui significa proprio voler dire ragazzi ingegneria a Palermo presso l'Università di Palermo è nelle sedi di staccate è solida, è forte, ha degli ottimi risultati noi ve la portiamo a casa ci aspettiamo diciamo che sulla triennale ci sia una bella risposta dopodiché è chiaro che poi nel passaggio dalla triennale alla magistrale noi possiamo proporre naturalmente le nostre magistrali ma se qualcuno poi va a studiare al Politecnico di Torino per carità la libertà o Milano ancora meglio la libertà diciamo è assolutamente e totalmente garantita ci mancherebbe immagino che il campus universitario semmai si farà questa nuova realtà del social housing con case dedicate appunto agli studenti possano favorire la permanenza e la voglia di venire a studiare appunto a Travani come in altre sedi decentrate dell'Università di Palermo questo sicuramente aiuta anche quelli sono servizi importanti diciamo per il diritto allo studio evidentemente quindi diciamo sicuramente la presenza diciamo di residenze e di altre facilitazioni sui trasporti sono naturalmente molto molto importanti davvero diciamo la realtà della nostra terra diciamo ci dimostra che noi dobbiamo provare a dare opportunità a tutti questo è il dato fondamentale la nostra proprio mission deve essere quella di dare opportunità a tutti l'opportunità la fai rendendo l'università accessibile da un punto di vista dei costi, dei trasporti, dell'abitazione su questo diciamo questi passi avanti che si intendono fare sono molto importanti va bene abbiamo pochi minuti a disposizione mi dicono dalla regia per quanto riguarda il nostro timing com'è cambiata l'università in questo anno e tanticchia di pandemia? l'università ha dovuto radicalmente cambiare se stesso io ricordo perfettamente i primi giorni di marzo dell'anno scorso quando di fatto da un giorno all'altro ci siamo trovati a dover inventare una didattica a distanza alla quale non eravamo assolutamente abituati noi siamo orgogliosamente in presenza ma diciamo il colloquio con lei in questo momento guardandoci negli occhi è completamente diverso rispetto al colloquio che ci potrebbe essere davanti ad uno schermo non c'è dubbio che l'università è presenza però ci siamo dovuti adattare l'abbiamo fatto l'abbiamo fatto nella convinzione di non lasciare indietro nessuno e di non lasciare indietro nulla e quindi di fatto in una settimana abbiamo montato una didattica a distanza abbiamo fatto gli esami a distanza le lauree a distanza abbiamo fatto tutto a distanza abbiamo provato a cavallo dell'estate a ritornare parzialmente in presenza precipitosamente siamo dovuti ritornare a distanza ad ottobre per la seconda ondata della pandemia in questo momento noi abbiamo i primi anni in presenza perché abbiamo voluto fortissimamente tornare in presenza con l'inizio del secondo semestre il resto ancora a distanza speriamo di poter recuperare la nostra tradizione senza perdere però quanto abbiamo imparato perché onestamente devo anche dire che la didattica a distanza ci ha permesso di imparare tante cose e di capire come ancora una volta in favore al diritto allo studio la didattica a distanza può servire per gli studenti lavoratori per gli studenti genitori per gli studenti negli ospedali per gli studenti nei penitenziari cioè ci sono tutta una serie diciamo di categorie che hanno oggettivamente difficoltà ad essere in presenza che possono essere aiutati con una didattica ibrida quindi prevalentemente in presenza ma anche con questi supporti a distanza Passa Piacentino, inviti chi ci sta guardando a iscriversi ai corsi di Laura Trapani Ragazzi probabilmente con tanti di voi abbiamo già avuto o avremo l'opportunità di vederci vis-à-vis o comunque con un contatto diretto ma comunque mi sento di dire che avete sentito come l'attenzione dell'Ateneo in qualche modo abbia voluto assicurare al nostro territorio delle opportunità concrete e probabilmente quelle più attrattive per quanto riguarda la possibilità di sbocchi ulteriori di perfezionamenti ulteriori nel percorso dei studi e nel accesso al mercato del lavoro quindi in qualche modo ecco il mio invito è a una diciamo lungimirante valutazione delle proprie ovviamente le proprie vocazioni in primis perché ciò che si studia bisogna approcciarlo con passione perché tutto è la base diciamo di un successo diciamo personale e lavorativo ovviamente però ecco queste opportunità sono state concepite con questa eterogeneità di diciamo di ambiti di studio proprio per assicurare l'opportunità di in qualche modo spendere il proprio progetto di vita nel proprio territorio il covid ci ha insegnato che poco anzi il direttore faceva riferimento alla possibilità che si aneli come fisiologico a 18 anni anche un percorso di vita più diciamo lontano da casa eccetera ebbene la vita spesso dà il tempo di maturare queste esperienze ma a 18 anni è anche un valore riuscire a maturare vicino alla propria famiglia ancora con il supporto e con le opportunità che studiare vicino casa offre ecco le proprie competenze e se queste sono di qualità assolutamente paragonabili a quelle che potreste diciamo di cui potreste esporre altrove ecco secondo me è un momento nel quale questo slancio che devo dire la governance di Ateneo ha voluto veramente con grande forza e mettere in campo merita attenzione da parte di tutti i ragazzi della nostra provincia grazie professore Antonio Biacentino presidente del polo universitario di Trapani grazie al professore Fabrizio Migari magnifico rettore dell'università di Palermo ci rivediamo e vediamo di capire come vanno le cose sempre molto volentieri questa era la prima parte di Res Pubblica Sicilia Chiama Europa rimaniamo nell'ambito dello studio in questo caso con una borsa di studio che sarà concessa ai vincitori del premio Tonino di Pasquale ce ne parla in studio una delle organizzatrici del premio Tonino di Pasquale lì andiamo in altri corsi di musica però tra poco benvenuti alla seconda parte di Res Pubblica in studio ho il piacere di avere l'avvocato Mariela Bonfiglio nella qualità di presidente dell'associazione Chirart benvenuta Mariela Bonfiglio di che cosa parliamo? parliamo certamente della seconda edizione del premio Tonino di Pasquale un premio che appunto quest'anno giunge alla seconda edizione non solo serve a commemorare la persona di un artista travanese tra i più benvoluti che ci ha lasciato un paio di anni fa ma certamente vuole contribuire anche a dare una spinta maggiore agli artisti siciliani e non solo nello specifico presidente Bonfiglio quest'anno che cosa si fa? perché so che nel Calderone è un bel po' di roba borse di studio, collaborazioni importanti con le scuole altrettanto importanti sì, possiamo allora quest'anno così come avevamo annunciato l'anno scorso al termine del concerto il concerto diventa un premio quindi è un premio dedicato allo swing che era il genere musicale amato da Tonino in vita abbiamo una bellissima collaborazione che è il College St. Louis di Roma che ha messo in palio delle borse di studio quindi non è un'unica borsa di studio ma ci sono diversi premi che sono dedicati ai vincitori che parteciperanno a questo concorso perché è un vero e proprio concorso e c'è una direzione artistica che si ripete che è quella di il maestro Riccardo Biseo Gianpaola Scolese e quest'anno abbiamo aggiunto un giovane nostro musicista del territorio marsalese che è il maestro Nina Herrera quindi già sono iniziate sono aperte già le iscrizioni c'è un sito dedicato che è www.premiotoninodipasquale.it dove i ragazzi possono naturalmente leggere il regolamento e presentare la domanda Non a caso si parla di ragazzi perché? Si parla di ragazzi perché è un premio dedicato agli under 30 quindi al di sotto dei 30 anni possono partecipare singoli o anche in una composizione di gruppo e dovranno presentare due brani un brano dello standard dello swing e invece un brano proprio inedito da loro composto c'è una giuria a monte che selezionerà naturalmente questi brani in base a quello che c'è scritto sul regolamento non vi annoio insomma è scritto tutto lì e le iscrizioni è importante scadono il 30 di aprile perché poi la giuria che è composta dai maestri che vi ho appena citato dovrà scegliere i più meritevoli che poi si potranno esibire il 15 settembre e la bella notizia quindi non c'è un'esibizione d'arrivo mandano diciamo un formato no mandano un formato youtube un link youtube privato e poi noi lo verificheremo e li selezioneremo il concerto finale quindi si esibiranno naturalmente insieme ad altri artisti che fanno parte della giuria considerate che la giuria a parte i nomi che vi ho appena fatto ci sarà anche una giuria specializzata quindi ci saranno giure nel settore ci saranno anche editori che saranno presenti nella serata del 15 settembre che devo confermare sarà nello stesso teatro dell'anno scorso il comune di Trapani ci ha messo a disposizione quindi ci patrocinerà patrocinerà nuovamente questa nostra iniziativa e quindi sarà il teatro Giuseppe Di Stefano quindi presso la villa comunale e quindi insomma si esibiranno in un palco importante perché è il palco dell'ente luglio musicale dove ci sono tutte le altre manifestazioni estive e di questo non possiamo fare altro che ringraziare l'amministrazione e nel caso specifico l'assessora Rosalia Dalì che ci ha tenuto moltissimo a patrocinare questo nostro meraviglioso l'anno scorso la prima edizione purtroppo è arrivata insomma in tempi di pandemia sì eravamo a settembre però c'erano molte restrizioni speriamo quest'anno che ce ne siano un po' di meno da qua a settembre però è stato un notevole successo sì abbiamo avuto molte presenze fra artisti operatori e pubblico eravamo intorno ai 250 persone non si è ammalato nessuno io questo ci tengo sempre a sottolinearlo perché sono state adottate tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa dell'epoca e quest'anno noi speriamo di avere più presenze perché perché dietro oltre naturalmente al premio dedicato ai giovani che così si affacceranno nel panorama del jazz hanno questa opportunità quindi di confrontarsi anche con i grandi maestri che saranno presenti c'è un fine sociale che è quello della raccolta fondi così come è stato per l'anno scorso per la ricerca sui colangio carcinoma che è a cura dell'Università Federico II di Napoli con la quale abbiamo naturalmente una convenzione un accordo un protocollo il professore che si occupa è sempre il professore Ettore Capoluongo dell'Università Federico II di Napoli ma c'è anche il professore Felice Giuliante che invece è dell'Università Cattolica di Roma meglio conosciuta come il Policlinico Gemelli che si occupa della raccolta delle parti che servono per poi essere analizzate per procedere a questa ricerca tra l'altro se qualcuno vuole approfondire l'argomento sempre sul sito che ho citato c'è una parte che c'è scritto ricerca e donazioni dove è trasparente tutta l'attività che noi facciamo sia di ricerca sia di raccolta fondi l'anno scorso abbiamo raccolto l'ho annunciato anche ai microfoni di Nicola Conforti 5.000 euro le donazioni sono aperte tutto l'anno attenzione quindi chi vuole donare anche le aziende che vogliono sposare questo progetto che non è un progetto che ha un percorso un percorso come si dice è diretto diciamo le donazioni sono dirette vanno direttamente all'università quindi non c'è un giro noi siamo semplicemente dei contenitori quindi raccogliamo tutti i fondi e poi i fondi vanno naturalmente destinati alla ricerca e il bello di questa cosa di questo progetto è dato al fatto che abbiamo un contatto diretto con l'università Federico II di Napoli con il professore Ettore Capolongo che mi aggiorna ad Oras diciamo così poi noi facciamo un comunicato che può essere semestrale annuale a seconda di quelle che sono state quelle che sono stati i risultati della ricerca quindi io ci tengo in maniera particolare a questo progetto per questo duplice appunto una duplice valenza sociale certamente quella della promozione degli artisti emergenti ma anche e soprattutto l'aiuto alla ricerca appunto nella lotta contro il cancro ritorniamo però alla questione delle borse di studio raccontiamole meglio che cosa si devono aspettare gli artisti che partecipano al concorso gli artisti potranno chi vincerà ecco il primo è arrivato c'è una borsa di studio che prevede per il solista nel caso in cui il vincitore sia un solista la possibilità di partecipare quindi di essere scritto al St. Louis come accademico o pre-accademico e fra l'altro il St. Louis ritiene che se il ragazzo o la ragazza insomma vincitrice e vincitore sia meritevole la borsa di studio verrà rinnovata quindi non solo il primo anno ma sarà anche il secondo anno e invece per i gruppi c'è una tre giorni a Roma naturalmente presso il St. Louis di una musica d'insieme con i maggiori insegnanti nell'ambito della musica jazz naturalmente quindi una specie di master diciamo così è più di un master perché poi il master in realtà c'è questa chicca se all'interno dello spettacolo un musicista fra di loro si è distinto per qualche caratteristica che viene stabilita naturalmente dalla giuria c'è anche una master class per lui e non escludiamo che magari riusciamo alla fine ad ottenere qualcos'altro in termini anche economici speriamo ce l'auguriamo più raccogliamo fondi più riusciamo ad essere mi piace questa cosa perché non è solo promozione della musica ma è anche un incentivo a studiarla la musica proprio è proprio un incentivo allo studio così come ci siamo prefissati ma c'è anche un'altra cosa chi vince partecipare ad un concerto che si ratterrà a Roma presso un jazz club dei più noti romani quindi è anche un'apertura per una carriera futura perché comunque confrontarsi con artisti del settore e poter conoscere anche il mondo al di fuori di quello che è il territorio poi naturalmente bisogna tornare sul territorio è una grande opportunità io penso che i ragazzi capiranno il senso del premio poi l'anno scorso abbiamo avuto un grande dei buoni risultati ancora ci fa da cassa da risonanza ecco il concerto dell'anno scorso avevamo anche come partner l'ASP e noi ci augureremo anche quest'anno con il dottor Zappalà di trovare una collaborazione e abbiamo già una collaborazione naturalmente ricordiamocelo sempre noi abbiamo un conservatorio che è l'Antonio scontrino dove naturalmente abbiamo già un protocollo di intesa anche per il premio e insomma Elisa Cordova che è la direttrice ha sposato molto piacevolmente anche con entusiasmo il nostro progetto ma è un premio che si può spostare al di fuori dei confini trapanesi? noi ci auguriamo perché pensiamo di poterlo anche fare a Napoli c'è la Università Federico II di Napoli che è il nostro partner per sempre o anche Roma non lo escludiamo perché abbiamo due partner prestigiosi il St. Louis e l'Università Federico II di Napoli loro anzi ci stanno invitando nel fare questa attività cioè nello spostare il premio anche in queste sedi in realtà noi durante l'anno perché inquadrate me che sono brutto quando c'è la Presidente che è più bella certamente grazie allora in realtà è nelle nostre corde e vorremmo fare ma siamo stati bloccati per via del Covid tutta una serie di concerti satellite durante l'anno che si possono svolgere sia a Roma sia a Napoli o in altri territori che ci ospitano perché l'obiettivo è quello sempre di raccogliere fondi per la ricerca veramente ci vogliono tanti 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 tante risorse e il più volte il professore Ettore Capolongo in diverse interviste che abbiamo fatto lo trovate anche su Donina sarebbe sul sito dell'università ha sostenuto insomma e ha invitato proprio ad una maggiore possibilità di fondi perché i fondi statali sono veramente ridicoli e se non arrivano da noi privati noi abbiamo voluto aggiungere un elemento in più abbiamo voluto rendere bello un lavoro di ricerca e quindi la musica e la ricerca insieme per la vita abbiamo questo è il nostro motto che ci porteremo che ci porteremo sempre dietro e quindi veramente il mio augurio è quello che tanti imprenditori ma anche singoli cittadini non necessariamente bisogna fare donazioni di chissà qual'entità anche un euro va bene perché vanno pilotati lì quindi abbiamo un investimento nelle future leve nell'ambito musicale e un investimento nella ricerca questo è il nostro obiettivo Tonino sarebbe stato assolutamente orgoglioso di tutto ciò io non sono certa perché Tonino aveva un animo per chi l'ha conosciuto io ho avuto il privilegio ti dicevo prima di avere un rapporto diverso perché ero sono io ancora dico sono la moglie di Tonino e lui amava questo genere di cose era molto attento alla parte sociale e il suo desiderio era ma l'ho già detto durante il concerto dell'anno scorso quello di realizzare un concerto di beneficenza nel momento in cui sarebbe guarito purtroppo questa cosa non è stata possibile perché è stato colpito da uno dei più brutti tumori che si sono conosciuti attualmente che sono i colangiocarcinoma insieme ad altri sono tumori rari silenti che nel momento in cui ti colpiscono è come una sentenza di morte io questa cosa la sapevo e naturalmente le vicissitudini insomma quelle personali non le racconterò mai però è stato un periodo difficile sicuramente e penso che per una persona che ha fatto tanto anche per il territorio molto in silenzio perché Tonino era il batterista che stava un passo indietro e non un passo avanti rispetto ai concerti che faceva con uno stile tutto suo molto apprezzato non solo in Sicilia ma anche nel resto d'Italia lui se lo merita ecco questo lui se lo merita e ce lo meritiamo un po' tutti ecco ringrazio e saluto io ringrazio te dell'associazione Kirart Mariella buon figlio ci rivediamo e vediamo di capire a che punto siamo certo senza altro quando volete molto volentieri ti ringrazio tantissimo grazie questa è stata res pubblica Sicilia chiama Europa arrivederci grazie